All'Università Orientale di Napoli si sia sviluppato un'interessante riflessione su temi cruciali per il futuro della nostra convivenza planetaria, i diritti umani, le emigrazioni, la centralità della persona rispetto ai sistemi economici e di governo. All'Università di Napoli dell'Orientale nella prestigiosa sede del Rettorato in Via Partenope si è tenuta la conferenza finale del Jean Monnet Network Maps, acronimo di Migration and Asylum Policy Systems, evento conclusivo del progetto nato nel 2018, coordinato dal professore Giuseppe Cataldi. Abbiamo cominciato in un momento in cui c'era la crisi nel Mediterraneo e finiamo con la crisi nel Mediterraneo più la crisi dovuta alla guerra in Ucraina. All'epoca nel 2018 ovviamente avevamo tutte le difficoltà derivanti dal succedersi in Italia di vari governi e quindi di vari ministri degli interni che in qualche modo cercavano di sopperire alla inerzia dell'Unione Europea e di altri paesi con misure anche discutibili, con misure che dal punto di vista tecnico-giuditico, al di là del giudizio politico o personale o etico, erano misure che in qualche modo contrastavano con gli impegni internazionali dell'Italia. Durante la due giorni, il 19 e il 20 maggio, si è fatto un bilancio di quest'anno di lavoro e cooperazione internazionale con uno sguardo verso il futuro, individuando le best practices, le buone pratiche in tema di gestione delle politiche migratorie e di asilo con un focus sui diritti umani, un network finanziato dai fondi europei dell'azione Jean Monnet, grande la partecipazione e l'entusiasmo durante la chermessa alla presenza del coordinatore del progetto, il docente Giuseppe Cataldi. Noi quello che ci auguriamo, noi siamo degli studiosi, siamo dei tecnici, quello che ci auguriamo è che il nostro messaggio possa in qualche modo passare e aiutare chi deve prendere delle decisioni politiche che io so non essere facili, perché poi magari il mio mestiere è più facile, io posso criticare, posso analizzare, posso darmi una soluzione, ma non prendo responsabilità diretta nella gestione di un fenomeno.